Grande festa per la Cattedrale di Chioggia, al Duomo, dedicato a Maria Assunta, la Santa a cui è dedicata la giornata di Ferragosto. Dopo il concerto di Maria che si è tenuto domenica scorsa, il 13 agosto, questa mattina la Santa Messa, ufficiata dal Vescovo Monsignor Dianin, ha visto un'importante partecipazione di fedeli. Entrambe le celebrazioni sono state accompagnate dal coro Vittor Bellemo, accompagnate dalle musiche del maestoso organo. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga, gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.